Qual è la mia stessa Prumitati? Non è che ne ha compito, non è che ne ha compito, è che io sono la loro persona, io ho piacere la mia, però non posso informare, allora tutti dicono che non sono bene, io sono sani, tutti quanti sono sani, sì però mi fa un po' male qua, mi fa un po' male lì, no, ovviamente non è che mi c'è il giallo. Ma te lo ho detto, cosa ti ho detto, ci chiesti di fare? Non ce ne avevo mai avuto. Ma ecco, ma mia sedia adesso, è uscita, non me la posso ascoltare, sono cattato la pastura. Hai fatto qualcosa, allora mi spiego come funziona, la regola numero uno, ti appoggi la schiena, regola numero due, io metto la mano, mi rifiace l'appoggi la testa, se ti fa male si basta, lì cosa non alzare il colpo e non graffio, non topra fino al dorsale, non morbi, così, in altissima, adesso no, però se ti fa male, ti pausa, ma non alzare il vestito il graffio, ho capito? Ho capito? No, non è, non è, non è, non è quello, cioè, io, se faccio un mentale, ma, no, ah, questi, 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 fai un altro belgo, quelli faccio ridere perché se ridono, non mi usco, allora, quando, quando li faccio ridere, non possono, non possono, non mi usco, una testa più a destra, con il sulta, no, smola, no, 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 il pausa, però se faccio la testa, non ti lascio come il tuo testa solo, è un obbligo perché se no le piante si fondano, guardi, respira, tipo di era la testa, che si era palida, eccetera, può succedere anche gli uomini, molla giù la testina, molla giù la testolina, devo parlare io, perché lei dici testolina e la merce di testa di cazzo? No, è che questa postulina, quando tu ridi, quando tu ridi, ti scontrolli il corpo, non ti ripeto, perché il tuo cervello, io metto un dito, lui ci stia, allora, l'importante è parlare con la persona, estornirla, o per la vita, eh, perché adesso io dico se fosse due, come per la vita, metti una mano qua, mi piace, prova, se è uguale, vado via, fino a te la via, no, non è uguale, ah, bene, spero, spero, bene, allora, Vittorio, scopri la nostra cazzo, scaldare, allora, scaldare una mezz'ora, se pensi che io abbia mezz'ora, qua, dovete stare in tutta la notte, fino a domenica mattina qua sotto, scaldare le vostre teste, giù, 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 giù e ridi, fa grande, ecco, brava, ecco, ancora uno, ancora uno, è finito quasi, diciamo l'altra, quasi, non è finita, è quasi finita, stai ridendo perché ascolta le vostre cazzate, se no non ride, se no non ride, pregozzi gli americini,